Il governo è vergognato della Morgese, se ne deve andare a casa, che è abusiva! Questo governo si deve dimettere! Abusivo! Il governo si deve mettere subito! Governo complice e criminali! Non ho paura di te, ministra! Sono persone, è giusto che arrivano, sono scesi, devono uscire, sono stacche, è giusto un consiglio, però non facciamo una piccola cosa. Non c'è bisogno di avanzare, se no non siamo ancora più, però capite che noi ci possiamo andare a portare. Perché questi, noi siamo solo, che a Stasira gli immigrati si vanno a dire, siamo stacche e basta! Anzi, potevo aiutare forse dell'ordine, no? Aiutamolo! Ci sono bambini? Ci sono bambini? Ci sono bambini? Ci sono bambini? La porta no! Non c'è un bici con la macchina. 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 Non c'è un bici.